Hai fatto le creppe e te ne è avanzata qualcuna? Usale per l'aperitivo, fritte sono croccantissime! Il procedimento è semplicissimo, non devi fare altro che tagliare le tue creppe a striscioline e friggerle nell'olio bollente. Basteranno un paio di minuti per renderle croccantissime. Metti su carta assorbente, completa con sale e origano e sei pronto per gustare. Sono sicura che ti conquisteranno al primo assaggio. Senti che croc!